Sono Claudio Tocchia, direttore generale dei CFT, uno sponsor importante che quest'anno finisce sulla maglia, la Fiorentina Basket. Ecco in primis, da dove arriva l'investimento, dove arriva l'idea e la voglia di sponsorizzare una realtà fiorentina in serie B di Palacanestro? Noi siamo una realtà fiorentina storica perché siamo presenti dall'inizio del Novecento sul territorio, quindi siamo stati in qualche modo sollecitati al contributo del rilancio del basket su Firenze, quindi abbiamo accolto volentieri subito questa opportunità perché comunque essendo presenti in modo importante con i nostri oltre 2.600 lavoratori e le famiglie siamo convinti che anche l'indotto e riavvicinare le persone a questo sport su Firenze possa essere un momento assolutamente importante. Ecco, a questo si aggiunge una riunione per la di oggi importante magari anche a livello di istituzioni e personaggi coinvolti. Ecco, come vede il progetto Fiorentina dal vostro punto di vista e la sua futuribilità? A noi siamo convinti che pur essendo molto sensibili al colore viola perché comunque anche con Fiorentina abbiamo delle interlocuzioni commerciali, siamo convinti che questo sia un bel progetto. Quest'anno ancora di più con il settore giovanile, soprattutto legato al nostro corpo sociale, ai nostri dipendenti, alle famiglie, siamo convinti che sul territorio potremo dare un contributo anche di risorse e di bambini che ci auguriamo sia vicino a questo scorso. L'augurio chiaramente che facciamo a tutti le istituzioni, al Comune di Firenze, a Fiorentina Basket è quello di avere un futuro sempre più da protagonista nel gioco del basket. amico, responsabile marketing di Estra, in merito alla sponsorizzazione con la Fiorentina Basket che finisce sulle maglie da gioco. Ecco, anche in questo caso, come arriva l'idea della sponsorizzazione alla Fiorentina? Allora, Estra è indubbiamente una società di carattura nazionale ma che nasce in Toscana. Nasce tra l'altro qui vicino a Prato e fa gas e luce, vende gas e luce. E la metafora che da sempre noi cerchiamo di portare è quella dell'energia uguale allo sport e quindi siamo sempre molto presenti negli sport giocati. Ma devo dire anche nelle sfide che hanno un pochettino nella riconoscibilità di un territorio e nella sfida di una società piccola e nella quale ci possiamo riconoscere anche un interesse particolare. Ecco perché Estra entra sulle maglie di Fiorentina Basket, perché Fiorentina Basket è una sfida, come piace a noi. Un piccolo che però si sta letteralmente guadagnando un palcoscenico nazionale. Ecco la tradizione cestistica di Estra comunque risale anche negli anni. Quindi ecco anche vedendo da fuori il lavoro della Fiorentina, come le sembra come movimento e come società e quali potrebbero essere i suoi obiettivi? Insomma le sembra una società di salute? Allora diciamo che il nostro da sempre rapporto con il basket storicamente nasce a Siena, nasce con la grande squadra che era in Champions della Menzana Basket. Peraltro siamo ancora a Siena con la Menzana Basket perché comunque territorialmente vogliamo supportare il movimento del basket in generale. La Fiorentina Basket è una grande sorpresa devo dire perché personalmente almeno non venendo dalla Toscana essendo Ligure, insomma trovare una società che riparte in sostanza, che si riqualifica con un management sicuramente in grado di portare a grandi risultati. Un presidente che più che un presidente è un tifoso e con un'organizzazione che mi sembra abbia quanto di più perfetto e perfezionato. Insomma è una grande sorpresa, una grande sorpresa che conferma il motivo per cui noi siamo insieme a Fiorentina Basket.